Ciao ragazzi, vi assicuro che non è molto facile ripiazzarsi davanti alla macchinetta per registrare un video dopo così tanto tempo, ma più che altro a maggior ragione essendo consapevole del fatto che sono passati ormai veramente tanti mesi da quando è pubblicato un video l'ultima volta e quindi insomma il tutto è abbastanza complicato più che altro perché non è la prima volta ragazzi nell'ultimo paio d'anni che sparisco da youtube per il periodo estivo soprattutto e poi ogni volta appunto mi ritrovo qui per darvi delle spiegazioni sentendomi anche abbastanza, non dico a disagio ma sentirmi abbastanza, non lo so ragazzi, direi in colpa, ma sì probabilmente è questo insomma il termine giusto perché appunto come vi dicevo prima a maggior ragione sono consapevole del fatto che come al solito anche quest'anno ragazzi ho troncato di nuovo di netto così di punto in bianco la mia attività qua sul tubo, sul mio canale, attività la quale ho comunque sempre tenuto tantissimo ragazzi sono ormai da dieci anni a questa parte lo sapete, sono consapevole di ciò e per questo che mi sento in colpa perché vi avevo detto che comunque ci avrei provato ragazzi nonostante tutto ci avrei provato a continuare a tenere attivo il canale anche durante il periodo estivo ma ormai mi conoscete, molti di voi mi conoscono veramente da tanto tempo e sapete benissimo che io non cerco mai stupide giustificazioni o non cerco mai di nascondermi dietro un dito, sono sempre stata molto sincera, molto trasparente nei vostri confronti perché mi sembra d'obbligo insomma nei confronti appunto di chi mi segue e di chi comunque mi ha sempre dimostrato tanto affetto e nonostante tutto non ha mai smesso di dimostrarmi la sua presenza è anche per questo che oggi sono qui ragazzi perché questa mattina appunto sono rientrata per l'ennesima volta sul mio canale youtube per vedere un attimino come fosse la situazione ho aperto la sezione dei commenti ragazzi e ho visto che in questi ultimi mesi mi sono persa praticamente tantissima attività sul mio canale perché nonostante tra l'altro ragazzi appunto io non pubblichi un video da mesi ho visto che nonostante questo il numero di iscritti è aumentato nonostante tutto i miei video hanno continuato a fare visualizzazioni nonostante tutto soprattutto i miei gameplay e ho visto che nonostante tutto tanti tanti di voi hanno continuato a commentarmi i video come se io non me ne fossi mai andata come se appunto io comunque in maniera silenziosa continuassi ad essere partecipe al mio canale youtube e vi giuro ragazzi che non me l'aspettavo ecco i commenti non li aprivo da tanto tempo non mi è mai rivenuto in mente effettivamente di riaprire la sezione dei commenti e stamattina mi son detta ma effettivamente io non ho mai riaperto i commenti ai miei video fammi un attimo vedere e dire che sono rimasta stupita ragazzi e dire poco perché veramente non me l'aspettavo comunque dopo tutti questi mesi di assenza mi aspettavo che appunto il mio canale lentamente morisse e nonostante questo nonostante l'assenza nonostante non abbia più pubblicato nulla invece il mio canale comunque inspiegabilmente anche se magari ovviamente mo ci vuole non di tanto però a livello di numeri ha continuato a crescere ragazzi cioè ha continuato a fare visualizzazioni molti di voi si sono iscritti al canale nonostante tutto in quest'ultimo periodo molti di voi hanno continuato a commentarmi i video e non lo so ragazzi è una cosa che mi ha colpito veramente mi ha colpito ed è per questo che oggi sono qui perché veramente mi sono sentita tanto in colpa e mi sento estremamente grata nei vostri confronti cioè non potevo non dirvi ragazzi questa cosa che sto provando adesso perché vi ripeto io non ho mai dimenticato youtube e mi sono in questi mesi sempre sentita comunque appunto abbastanza triste a riguardo ma vi ripeto non voglio trovare delle stupide giustificazioni ma non ce l'ho fatta ragazzi volevo appunto spiegarvi cosa è successo in questi mesi anche se praticamente la spiegazione è uguale a quella dell'anno scorso fondamentalmente nel senso che non ce l'ho fatta ragazzi a dedicarmi anche ai video anche al canale youtube a causa del lavoro che comunque mi ha occupato praticamente tutte le sere e l'estate lo sapete benissimo ragazzi quanto il lavoro nella cucina di un ristorante sia dura quindi comunque il lavoro di per sé mi stancava ovviamente non vi ho mai nascosto ragazzi che mi sto dedicando anche tantissimo ovviamente al sito Viola e io comunque vi rinnovo l'invito a venirmi a seguire anche lì ragazzi perché comunque ve l'ho sempre detto l'attività che si può fare sul sito Viola è tutta un'altra storia vi rinnovo l'invito comunque a seguirmi anche lì ma a parte questo non ce l'ho fatta ragazzi appunto dedicandomi alle live al mattino e al lavoro la sera e al pomeriggio chiaramente alla casa perché comunque ho una casa di cui occuparmi eccetera non ce l'ho fatta ragazzi umanamente materialmente ad occuparmi anche dell'editing dei video avevo iniziato la serie su Resident Evil 8 che proseguirò perché comunque le live le avevo salvate quindi posso continuare a pubblicare gli episodi almeno intanto di quella serie e quindi oltre a questo ragazzi volevo dirvi che mi dispiace mi dispiace veramente tanto perché alla fine delle storie insomma alla fine delle cose quello che ci rimette sempre è sempre il mio canale YouTube fondamentalmente e forse non lo so non ci ho provato abbastanza ma non ce l'ho fatta ragazzi non ce l'ho potuta fare e mi dispiace perché a maggior ragione vedere che nonostante la mia assenza nonostante tutto il canale comunque ha continuato effettivamente a rimanere attivo nel senso a non fermarsi nonostante tutto insomma ragazzi ma è una cosa che mi ha toccato ok e questo inverno ragazzi le cose comunque cambiano perché appunto io ho lasciato il lavoro in cucina quindi io adesso non voglio farvi false promesse e non voglio assicurarvi che usciranno per esempio video ogni due giorni video un giorno sì un giorno no video tutti i giorni non voglio assicurarvi nulla quello che voglio dirvi è che comunque appunto mi dispiace ci tenevo a ringraziarvi veramente tanto comunque per il supporto che avete in ogni caso continuato a dimostrare a me e al mio canale qua su youtube nonostante l'assenza nonostante tutto e che appunto cercherò ragazzi di non lasciare il canale a morire perché appunto vi ripeto è una cosa che mi dispiace dal più profondo del cuore poi a maggior ragione ragazzi cioè finalmente ho raggiunto la soglia dei 10.000 iscritti è stato insomma un obiettivo che ho sempre avuto per me per il mio canale e quindi mollare tutto così adesso è una cosa che mi farebbe male io veramente ragazzi vi chiedo scusa se non so oggi non mi sento tanto capace di di esprimere quello che provo quello che penso ma vi ripeto è strano ma più che altro appunto mi ha fatto strano ragazzi notare questo notare questa cosa di cui parlavo notare che nonostante tutto il mio canale è ancora vivo fondamentalmente è una cosa che mi ha toccato che mi ha colpito non so neanch'io tanto spiegarvi in che modo non è semplice dopo così tanto tempo ho maggior ragione perché chiaramente probabilmente molti di voi magari se ne saranno andati molti di voi probabilmente si saranno stancati ogni volta magari di sentire sta storia ma non ce l'ho fatta con lavoro non ce l'ho arrivata molti probabilmente si saranno anche stancati ma nel frattempo davvero ragazzi io vi rinnovo il mio più sentito ringraziamento per tutto come sempre per la presenza soprattutto che non avete mai fatto mancare a me e a questo canale quindi la serie su resi antivolotto continuerà ragazzi per ora ovviamente mi concentrerò soltanto su quella anche perché vi ricordo che appunto io ragazzi gli episodi devo editarli dalle live perché appunto l'avevo giocato sul sito Viola e quindi avevo dovuto scaricarmi le live che comunque immaginerete durano tanto quindi l'editing non è semplicissimo ma vi assicuro che intanto mi concentrerò su quella serie quindi gli episodi su quella serie continueranno ad uscire e magari ecco avendo adesso un pochettino più di tempo a disposizione dedicarmi anche a qualche altro tipo di video non voglio assolutamente dimenticare quelle che sono effettivamente le mie origini perché Giocherina è nata da qui e quindi Giocherina non non se ne andrà da qui questo poco ma sicuro quindi grazie ancora a tutti altro piccolo appunto ragazzi penso che a breve caricherò un video che tra l'altro è stato editato da mio amico barra moderatore sul sito Viola che è stato appunto editato creato in occasione del mio compleanno che è stato a giugno che è praticamente ragazzi un mini movie tra virgolette un mini film divertentissimo tra l'altro che è appunto formato da tante clip divertenti che sono state appunto raccolte dalle mie streaming sul sito Viola io spero che comunque lo guarderete perché è davvero fatto bene tra l'altro ragazzi io non so quanto tempo non mi ricordo manco quanto tempo ho detto di averci messo ad editarlo a farlo ma ne vale veramente la pena ragazzi perché verrà davvero davvero molto carino così magari vi dà anche un'idea di quello che succede nelle mie streaming quello che può succedere nelle mie live sul sito Viola e quindi magari non so vi incoraggerà un'ulteriore volta magari a seguirmi anche lì come al solito penso di di avere poco da dire e poi ecco mi dilungo sempre troppo ancora grazie di cuore a tutti ragazzi vi voglio un mondo di bene davvero grazie grazie di tutto per l'affetto e il sostegno come al solito ci vediamo presto ciao ragazzi